Mentre i fantacalcio reali si stopperanno durante il mondiale del Qatar, quelli online andranno sempre avanti anche durante il mondiale. Ed è un'ottima occasione per continuare a schierare quei giocatori che ci possono dare delle soddisfazioni e ci possono portare al premio. Nel video di oggi andrò a spiegare qual è la mia strategia per affrontare il mondiale del Qatar 2022 e qual è la mia top 11 che schiererei per portarmi a casa i premi settimanali su Manager NFT. Avendo iniziato a giocare da poco su Manager NFT, non ho ancora avuto modo e tempo di costruirmi una rosa di giocatori ideale per me. Ho fatto qualche asta dove mi sono portato a casa degli ottimi giocatori in ottica campionato. Ho spacchettato anche in un video precedente 100 euro di pacchetti e dove ho trovato Holland e Neymar dal valore di più di 250 euro. Terzo. C'è lui, c'è lui, c'è lui. Fatto sta che ancora non ho un vero e proprio squadrone, avendo iniziato da poco. Ed infatti la mia strategia è quella di concentrarmi sulle aste per portarmi a casa dei giocatori importanti per quando ricomincerà il campionato. E questo secondo me è il miglior momento in assoluto per entrare nel gioco e prendersi dei giocatori, perché sono tutti concentrati sul mondiale e sui giocatori che devono schierare in ottica mondiale. Ma questo vuol dire che quelli non convocati e quelli con le nazionali che non sono presenti a Qatar 2022, come può essere la Norvegia di Holland e di Odegaard, la Nigeria di Ozymen o l'Egitto di Salah, si potranno comprare a prezzi più convenienti. Vi ricordo anche che se foste interessati a questo gioco, se lo scaricate con il mio link creatore in descrizione, voi non pagate nulla di più e ottenete dei pack gratuiti che altrimenti non ricevereste se ve lo scaricaste da soli. In particolare, credo che questo gioco che è uscito da meno di un anno ha veramente molto potenziale di crescita. Ed è il motivo per cui, come ho fatto vedere in uno scorso video, che troverete nella playlist in descrizione di Manager NFT, ho investito 8.000€ per potermi comprare dei giocatori di alto livello, per farmi una squadra di alto livello e quindi vincere i premi settimanali. Oltre che a poterci portare contenuto su questo canale, perché ho anche conosciuto dei giocatori, che spero di portarvi presto su questo canale, che si sono portati a casa più di 50.000€ in meno di un anno, giocando a questo gioco, conoscendo le dinamiche del calcio, facendo delle plusvalenze e molti altri modi per monetizzare, di cui parlerò in un altro video, sempre su questo canale. E il tutto questo giocando al fantacalcio, che già molte persone lo fanno, ma online e vincendo perché si conosce il calcio e i calciatori. Per me, da appassionato e da cacciatore di play and earn, questo è fantastico. Passiamo alla mia top 11 del mondiale, dove andrò a scegliere prima di tutto le quattro squadre che secondo me arriveranno in fondo a questa competizione. E vi ricordo che se siete interessati a scoprire di più di questo gioco, sempre in descrizione troverete la playlist con tutti i video che farò su Manager NFT. Per me, le quattro finaliste sono Argentina, Francia, Germania e Brasile. Però perché voglio scegliere le quattro finaliste? Perché vuol dire che se sono arrivate in fondo, hanno vinto le partite. E se hanno vinto le partite, su Manager NFT, i giocatori prendono dei punti bonus. Oltre al fatto che se arrivano in fondo al mondiale, molto probabilmente sono dei top player, che si possono utilizzare anche in chiave campionato. Infatti, per me sono Alisson in porta, Varane, Marchinhos e Kimmich, Casemiro, Chouchamani, De Paul a centrocampo, Messi, Neymar in attacco e come bonus, perché su Manager NFT bisogna schierare due giocatori extra, Mbappé e Benzema. Sono tutti certamente dei top player, quindi non dico nulla di rivoluzionario. Ma in particolare su Manager NFT, avendo analizzato le precedenti 50 partite del gioco, sono quelli che statisticamente tendono a fare meglio degli altri. E chi avrà questi giocatori, secondo me, si porterà a casa un ottimo bottino, ma lo andremo a vedere sicuramente nei prossimi video. Vi lascio qui la playlist per altri contenuti su Manager NFT e di qua il video consigliato da YouTube. Scegliete voi quale guardare dopo e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Xcogna vi saluta.